Vi informo che ieri sera ci è stata comunicata la positività della titolare non residente di una ludoteca privata di Castellabate. A comunicarlo il sindaco facente funzioni Luisa Maiuri. Sono stati immediatamente posti in isolamento i 21 bambini che la frequentano e in via precauzionale abbiamo chiesto alle famiglie di evitare la frequenza scolastica in presenza dei bambini che frequentano le scuole di Castellabate appartenenti agli stessi nuclei familiari, così come comunicato dalla dirigente scolastica dell'istituto comprensivo di Castellabate da lunedì per gli stessi sarà garantita la DAD. Con l'augurio che tutto possa risolversi nel migliore dei modi desidero esprimere tutta la mia vicinanza e affetto ai piccoli e alla titolare e alle famiglie conclude la Maiuri. Sospensione delle attività didattiche in presenza anche in tutte le sedi dell'istituto Vico dei Vivo per sanificazione degli ambienti. A farlo sapere la dirigente scolastica Teresa Pane sul sito istituzionale della scuola. Per consentire la sanificazione degli ambienti dell'istituto le attività didattiche in presenza sono sospese per il giorno 19 febbraio 2021 in tutte le sedi dell'istituto Agropoli e Castellabate, spiega la Pane. Tutte le classi effettueranno pertanto attività didattiche in DAD. Si precisa che le attività didattiche saranno effettuate in modalità sincrona per tutte le ore di lezioni del giorno. Chiuso anche l'istituto comprensivo Agropoli San Marco, plesso di Via Verga, in quanto è emersa la positività al Covid-19 di una insegnante. È già stata predisposta alla sanificazione dei locali, mentre l'ASA è al lavoro per ricostruire la catena dei contatti. La docente già da alcuni giorni non prestava servizio. A dichiararlo il sindaco della città di Agropoli, Adamo Coppola.